Si sono arresi alla fine per un soffio, sputando sangue e polmoni e gettando il cuore oltre un ostacolo che nelle prime gare sembrava insormontabile. Lo sport è anche questo, ma ai Mastini resta un'altra vittoria, forse ancora più solida, significativa, duratura. A loro e alla società va il merito di aver cambiato Varese, restituendo una percezione dell'hockey che da anni sembrava sepolta. Oggi il ghiaccio di Via Albani è tornato a farsi brand e sinonimo di appartenenza. Nella 5 Ice Arena si sta bene e di fronte a quel disco sfrecciante ci si diverte, ci si appassiona, succede anche a quelli che, come chi vi parla, questa realtà hanno cominciato a masticarla di recente, imparando ad apprezzarne genuinità e carattere, emozioni e tenacia, disciplina e storie individuali. Perciò al prossimo giro in quell'Arena dovremo essere ancora di più, perché i risultati non stanno solo sui tabelloni, ma anche negli occhi della gente e lì la vittoria dei Mastini è scritta a caratteri cubitali. Grazie. Grazie.